L'ultima fotografia che voglio commentare con lei prima di salutarla è questa. Questa qui è la foto di un leader di Hamas, di un leader di jihad islamica e del capo Nasrallah di Hezbollah, tranquillamente seduti a Beirut a parlare, diciamo, di quello che si farà. Che cosa le suggerisce questa fotografia? Mi provo a consenso di vuoto, nel senso che si capisce che siamo tecnicamente in Caoslandia, il mondo è Caoslandia, tra virgolette questi tre sono most wanted in the world, sono tranquillamente riuniti e hanno rilasciato tranquillamente un comunicato, è come se fosse una riunione interpartitica, diciamo, di una coalizione di governo. Tra i tre primole rosse, diciamo, del terrorismo internazionale. È una coalizione di governo che fa una riunione interpartitica e questa riunione interpartitica serve ognuno per rassicurare l'altro, perché naturalmente anche tra di loro non si fidano totalmente. Naturalmente. Speriamo che non abbia chiamato Putin. No, Putin oggi ha ricevuto un delegato di Hamas a Mosca, non direttamente lui, ma l'ha ricevuto, diciamo, il suo entourage. E che cosa possiamo pensare di questo? Possiamo pensare una cosa semplicissima, che la destabilizzazione favorisce le autocrazie e le dittature. Se scoppia Caoslandia nel mondo, non vincono le democrazie, vincono le autocrazie. Non dimentichiamoci mai una cosa, una frase di Tacito. hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato Pace. Grazie di nuovo, ci vediamo settimana prossima.